Solomone aveva stabilito un trono per sua madre, accanto al suo trono. Pensava che, dovendo lui amministrare la giustizia, sua madre, sedendo accanto a lui, potesse impetrare grazie e venia per quelli che più avevano bisogno di protezione, per cui fece erigere un trono accanto al suo trono. Tutto era scritto per figura delle realtà presenti. Con Cristo c'è Maria che siede sul trono di grazia. Per cui il versetto che dice avviciniamoci al trono della grazia per trovare misericordia nel tempo opportuno. Si avviciniamo pertanto a questo trono di grazia che è il trono di Maria accanto al nostro figlio per trovare grazia nel tempo opportuno. Tutti abbiamo bisogno di grazia da parte dell'infinita misericordia di Dio. Siamo tutti tormentati, chi per un verso e chi per un altro. Sembra che la tempesta venga su di noi, che non c'è scampo, che tutti i diavoli si sono accaniti su di noi, chi soffre nella salute, chi soffre nella persecuzione, chi soffre negli affari, chi soffre per tanti e tanti motivi, ma tutti siamo come attaccati e abbiamo bisogno di una, di Maria, nostra madre, perché interceda per noi nel tempo opportuno. Questa mattina noi supplichiamo Maria, nostra madre, che sia sul trono accanto al suo figlio, di voler intercedere per noi. E allora presentiamoci a Dio. Presentiamoci nel nome di Maria, nostra madre, che è la pura e la santa, l'immacolata, e anche che noi siamo peccatori. Chiediamo a nostra madre che la misericordia di Dio ci lavi, perché il dire di Dio non divampi contro di noi. Ci lavi dei nostri peccati, delle nostre miserie, per trovare grazie presso Dio. O Signore, purificaci, ti chiediamo, questa mattina, e tua madre, nostra madre, che chiede la nostra purificazione, abbiamo molto peccato, abbiamo abbandonato la tua legge, ci siamo allontanati da te, anche quando noi professiamo di amarti, di stare vicino a te, anche quando noi crediamo che la coscienza non ci rimproveri di nulla, noi ci siamo macchiati di peccato, ed è per questo che chiediamo perdono, misericordia e purificazione. O Madre santa e buona e misericordiosa, implori in questo momento la purificazione dei tuoi figli, perché possono trovare grazie presso Dio. O Madre, ottienici, che lo spirito di santità scenda su di noi, lo spirito che ci purifica e dei nostri peccati. Spirito di Dio, scende su di noi in questo momento, e Maria nostra Madre che ti invoca, e tuo Signore Gesù che fondi il tuo spirito, dacci il tuo spirito di purificazione e di santità. Spirito di Dio, scende su di noi, di Eterno e Unipotente, che hai voluto che per me sia dell'acqua elemento di purificazione. Meritini a noi, all'inimia, nacchili a nascere noi, vieni, vieni, Spirito di Dio, vieni su di noi, bagna, bagna orugliata e luminosa la nostra mente, bagna il nostro cuore, Togli i pensieri cattivi, i sentimenti perversi, purifica gli occhi, le lambra e le orecchie, purifica i nostri sensi. Nuri mia, nunna, nami e renia, non ci guarano, ma la iorenia no. Libera le nostre membre d'ogni morbo, allontane le malattie, disperdi tutti i germi nel male, mia ranaio nino. Aspergi mio Signore con il sopo, esserò mondato, lavami esserò più bianco dalla neve, ecco l'acqua che sgordo del Tempio Santo di Dio, dovunque giungerà quest'acqua dello Spirito porterà salvezza. Alleluia! Alleluia! Rinovi noi lo Spirito saldo, perché Ti possiamo servire con un cuore puro. O Padre, che dall'agnello immolato sulla cruce, fai scaturire il tuo urgente dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nell'amacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come premisse dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Signore, purifica il tuo popolo. Rinnovo oggi la grazia battesimale. Fa che riserviamo con mente pura, con cuore sincero, con mani candide, perché vogliamo salire il monte santo di Dio, stare vicino a Te e ottenere le grazie necessarie per proseguire il cammino. O Signore Gesù, in questo momento Ti presentiamo tutti i nostri problemi, tutte le nostre angustie, tutte le nostre difficoltà. Tu sei il nostro, Signore. E' con Te che noi vogliamo sostare oggi per ottenere dal Padre del Cielo aiuto, protezione, soluzione di questi problemi. E tu, Padre del Cielo, per amore di Gesù, per amore di Maria nostra Madre, sicuramente, versi di noi in questo giorno di grazia. Te lo domandiamo per lo stesso Cristo, nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi E con il tuo Signore Dal Vangelo secondo Matteo Gloria a te, oh Signore In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli Avete anche inteso che fu detto agli antichi Non spergiurare, ma adempi con il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico, non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabbello per i Suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurate neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Se sia invece il vostro parlare, sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. In questo tratto del discorso della montagna, che rappresenta la magna carta del Regno di Dio, Gesù ci richiama sulla verità. Ieri ci ha richiamato sull'amore, adesso ci richiama sulla verità. Il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Non dovete avallare le vostre affermazioni con giuramenti per dar credito al vostro parlare. Basti che voi vi atteniate alla verità. Dovete dire la verità. Dovete fare la verità. Dovete essere verità. Tutto il resto viene dal maligno. Ciò che non è verità viene dal maligno. il quale, dice Gesù, è falsario. In lui non si trova verità. E tutto quello che dice è menzogna. Perché trae dal suo e lo annunzia. al contrario di Cristo, che è la verità, lui è la menzogna. E quando noi troviamo la menzogna, o sulla bocca, o nel cuore, o nella vita di una persona, Ivi c'è l'ombra del maligno. La verità risplende sul volto del giusto. La verità canta nel cuore del giusto. La verità è vita nella vita del giusto. Perché la verità è Dio. Io sono la via, la verità è la vita. Dobbiamo avere il culto della verità. Il culto della verità si decrine in tre maniere. Prima modulazione è dire la verità. Dire la verità nella carità che non deve mancare mai. per carità che deve sempre accompagnare e deve sempre finalizzare ogni nostro detto. Ma la verità va detta sempre nella carità e per la carità. La verità. La verità. Tante volte noi diciamo menzogna, affestelliamo menzogne su menzogne. Tante volte noi, di una piccola pagliussa, ne facciamo una trave, alterando la verità. Noi tante volte aggiungiamo menzogne su menzogna, su un piccolo nucleo di verità. E la verità è coperta se vede soltanto la menzogna. Tutti dobbiamo dire la verità. E per dire la verità bisogna avere il coraggio di essere di Dio, di avere la verità di Dio dentro di noi. Ma c'è verità e verità. La verità assoluta è Dio. Noi possiamo anche non cogliere la verità. e proclamare verità ciò che non è verità. Perché la verità può avere molte facce. Tutta la verità soltanto lo Spirito può conoscerla. perché soltanto lo Spirito conosce tutta la verità. Quando verrà lo Spirito, Egli vi rivelerà tutta la verità, la verità intera. A noi che abbiamo gli occhi ci sposi. A noi che abbiamo gli occhi alterati. A noi che tante volte abbiamo il difetto dal tonico negli occhi. A noi che i turbamenti offuscono la vista, non è dato tante volte di cogliere la verità. Soltanto Dio coglia la verità. Noi cogliamo un aspetto della verità che non è tutta la verità. Ecco perché dobbiamo essere cauti quando affermiamo una verità. Ma ci sono delle verità che non sono verità di fatti, ma sono verità rivelate. Verità che Dio ci dà. Perché noi viviamo dalla verità. Ed è su queste verità che noi dobbiamo fermarci. Professare la verità perché la verità ci rende liberi. la verità è Cristo. Immergici in Cristo. Giudicare con gli occhi di Cristo, col metro di Cristo. Avere il pensiero di Cristo. E allora noi più facilmente possiamo vedere il vero che può essere occultato da tante fantasmagorie, da tante fate morgane nel deserto della vita. Non è in possesso nostro tutta la verità. Ma per quanto sta in noi, mettendoci davanti alla luce di Dio, dobbiamo dire sempre la verità. Nel manto della carità dobbiamo dire la verità agli altri, ma soprattutto dobbiamo dire la verità a noi stessi. Perché può succedere che diciamo la verità agli altri e non diciamo la verità a noi stessi. E la più grande verità è quella che noi diciamo a noi stessi. Sei un povero, un meschino, un miserabile, un peccatore. Tu non sei degno di guardare il cielo. Allora quella verità ci rende veramente liberi. Quella verità per noi è salvivica. Quando noi ci battiamo il pezzo davanti a Gesù e diciamo, Signore, non sono degno che tu entri dentro il mio cuore, nella mia casa, ma di soltanto una parola. E tuo servo sarà guarito. Allora noi diciamo la verità. Affermare la verità circa noi stessi. circa gli altri e circa i fatti condiglienti. Ma dire sempre la verità, secondo la luce che il buon Dio ci dà. Questo è il primo passo, essere trovati veri sulla bocca, nelle nostre affermazioni. secondo passo è fare la verità. Non basta dire la verità, ma bisogna fare la verità. La verità si costruisce e dobbiamo essere noi a costruire la verità. Fare la verità e camminare nella verità. Fare la verità e crearsi una vita vera, secondo Dio. fare la verità. Fare la verità e fare la giustizia. Non praticare la menzogna. Ogni peccato è menzogna. Quanto più noi siamo nella santità della vita, tanto più noi facciamo verità. Quanto più noi facciamo Dio, facciamo Cristo, noi facciamo verità. Fare la verità nella vita. uscire dalla menzogna che proviene dal maligno. Ecco il secondo passo che noi dobbiamo fare è chiedere al Signore di fare sempre la verità. Contro il fare la verità e l'ipocrisia e la doppiezza. fare la verità. Comparire davanti a Dio e davanti agli altri come siamo al di dentro. Senza la paura di comparire diversamente di come noi siamo. Questo è il coraggio dell'uomo cristiano, del vero uomo, che non teme di fare la verità anche quando fare la verità è a suo danno. Terzo passo è questo. Quando noi diciamo la verità, quando facciamo la verità con le opere, allora noi diventiamo veri. Diventare verità. Essere veri. L'essere veri è l'essere Dio. Perché Dio è verità. Perché Dio è vero. Immergeci in Dio. Vivere di Dio. Vivere di Dio. Questo significa essere veri. E' difficile. Perché noi siamo un miscuglio di verità e di falsità. liberiamoci da ogni falsità della mente e del cuore. Liberiamoci da ogni falsità nei nostri comportamenti e nei nostri atteggiamenti. Scendiamo dentro il cuore e svuotiamoci di tutti i sentimenti cattivi. Perché sono tutti menzogna. Non sono il nostro vero io. E' il nostro me che si mescola e occulta il nostro vero io. Il vero io. Fatto dal Signore in spirito e verità. Fatto d'immagine del Signore. E' il mio me che offusca il mio io. E dobbiamo liberare dal me Dio nostro profondo. in modo che l'immagine di Dio, il volto di Dio, nella sua verità, comparisca nella nostra vita. Essere veri. Non c'è gioia maggiore. E non c'è traguardo più importante che raggiungere la verità. Ed essere veri. Chi è vero ha raggiunto Dio. Si colloca in Dio. Nostra madre fu la creatura vera. La creatura vera. Perché si radicò nella verità di Dio. E per questo fu umile. Perché riconobbe i limiti creaturali in cui si trovava. Riconosceva che tutti i beni che lei aveva, che erano piovuti dal cielo su di lei, erano di Dio. Il lei sì non c'era peccato. Ma era una creatura debole. Limitata. Essa conosceva bene i suoi limiti creaturali. E diceva che era l'umerancella del Signore. Nulla c'era in lei che non fosse di Dio. Anche noi dobbiamo raggiungere questa soglia della verità. E dobbiamo pregare nostra madre. Perché sull'esempio di lei raggiungiamo la soglia della verità. E siamo radicati nella verità. Ecco che cosa tu hai che non hai ricevuto. E allora perché ti glorie. Quasi che qualche cosa l'abbia da te. Tu da te non hai niente. Questa è la verità. Di cui dobbiamo essere consapevoli. E di cui dobbiamo vivere ogni giorno. Tutto il bene che io ho. Non è da me. Viene da un altro. Tutto il bene che io faccio. Non è da me. Viene da un altro che opera in me. In me non c'è nulla. Io sono solo un luogo. Uno strumento. In cui si opera il bene. In cui si pratica la virtù. In cui Dio manifesta la tua vita. Ma da me io ho niente. Io sono zero. Finché noi non siamo compresi di essere zero. Allora non possiamo ricevere l'unità che valorizza il zero. E quanto più zeri mettiamo, quando noi mettiamo l'unità, tanto più acquistiamo valore. Quell'uno è Cristo dentro di noi. Quell'uno è Cristo dentro di noi. Quell'uno che vale. E che dà valore agli zeri. Noi siamo zeri. Quanto più matura in noi la coscienza di essere zero. Quanto più noi diciamo solo zero, zero, zero. Tanto più in Cristo diventiamo validi, preziosi. Perché è Cristo che valorizza i nostri zeri. Fuori di metafora, riconosciamo che Cristo è noi. E lasciamo operare Cristo in noi. Mettiamo da parte tutto ciò che può buscare il volto di Cristo. Tutto ciò che è in menzogna che può venire da noi. Tutto ciò che è operazione umana che può alterare l'operazione dello Spirito. Lasciamoci vivere da Cristo. Questo significa essere veri. Mostrare il volto del Signore. Lasciarsi vivere da Cristo. La verità. Lasciarsi vivere da Lui. Perché in Lui noi siamo. Di Lui noi siamo. Per Lui noi siamo. Amen. Signore, siamo qui per implorare misericordia nel tempo opportuno. E interponiamo la intercessione di nostra Madre che siede accanto a Te nel trono. Signore, noi ti preghiamo in questo momento per tutti noi qui presenti. Tutti siamo nelle tribolazioni. non c'è nessuno in mezzo a noi che non abbia qualche tribolazione, o spirituale, o materiale, o fisica, o morale. Tribolazioni personali, tribolazioni familiari. Signore, noi siamo i tribolati. Siamo un popolo di tribolati. Siamo entrati nella tribolazione che, come dice il Vangelo, non può mancare mai anche ai benedetti di Dio. Signore, i tuoi benedetti, i benedetti del Padre Tuo, sono nella grande tribolazione. E questa mattina nella loro tribolazione ricorrono a Te. Guarda, Signora, del cielo, la nostra tribolazione, e Tu Madre nostra, Madre di tutti, che comprende le tribolazioni di ciascuno, impetra per noi la grazia del refrigerio, della consolazione, dell'aiuto, dell'intervento di Dio, perché muti la nostra situazione. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo, Signore, per tutti quelli che ci fanno del male, cominciando dai più grandi, dal governo che ci tartassa, che non sa come dirigere i suoi passi, che ci opprime anche nell'intento di equilibrare, per recuperare l'economia della nazione. Signore, ti preghiamo perché questi dirigenti abbiano gli occhi rivolti alla popolazione, perché abbiano la grazia del giusto discernimento e più che gli interessi propri o delle parti che rappresentano, curino gli interessi del popolo, curano gli interessi dei tribolati, di coloro che si sono affidati al loro governo e patiscono. Signore, Signore, ti presentiamo tutti i governanti, tutti quelli che sono nei posti di responsabilità, perché siano illuminati, perché siano guidati nel governo del Paese, perché le nostre tribolazioni non aumentano, ma diminuiscono, perché le nostre prove non siano tali da muoverci e metterci in subuglio, perché diventa la vita impossibile. Per questo, Signore, noi ti preghiamo per i giudici che amministrano la giustizia. Signore, Signore, tocca la loro mente, tocca il loro cuore, metti in loro l'equilibrio, perché pur amministrando la giustizia, guardano gli uomini come loro fratelli e li giudicano come se giudica un fratello che manca, e non giudichano e non condannino l'innocente, per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per i detenuti, per gli indagati, per quelli che sono perseguitati dalla giustizia, soprattutto a scopo politico. Signore, sostieni i detenuti, sostieni i pregiudicati, metti la luce del tuo Vangelo nelle carceri, manda gli angeli consolatori presso i detenuti, fa che nessuno opprime il suo fratello, e alleggerisci le pene di colore che soffrono, per questo, Signore, noi ti preghiamo. Signore, ti preghiamo per i pentiti, perché non altrano la verità, perché la tua luce li guidi e non l'interesse umano, perché non dandeggi nei propri fratelli con i tradimenti, perché ogni tradimento è condannato in tutte le categorie umane, in tutti i tempi, perché è il tradimento che noi possiamo fare al nostro fratello. Signore, ti preghiamo per i pentiti, perché siete guidati unicamente dalla tua luce, e dal bene, non dal male e dal torno conto, per questo, Signore, noi ti preghiamo. Signore, ti preghiamo per i nostri ammalati, ce ne sono migliaia, centinaia, ti preghiamo per quelli che sono in stato terminale, ti preghiamo per quelli che adesso elencheremo davanti a te, che sono in necessità, ma ti preghiamo per quelli che non nominiamo, per quelli che giacciono negli ospedali e che oggi stessi morranno, ti preghiamo per gli abortivi, per questi bambini che vengono uccisi, vengono uccisi dalla barbaria umana, ti preghiamo per quei inocenti, il cui sangue grida vendetta dal tuo cospetto, per i milioni di uccisi, che ogni anno vengono presentati al macello, vengono sacrificati sull'altare degli uomini, ma il cui sangue grida vendetta sulla terra, per cui ci sono e pestilenze, e guerre, per cui ci sono malattie a non finire, perché tu ci vuoi richiamare ad evitare questi diritti, ad eliminare queste sconcesse dal vivere umano, per questo Signore noi ti preghiamo. A presto, e adesso ascolta, Signore Gesù, tutte le nostre suppliche per diverse categorie di persone, apri gli orecci, Signore, e nostra madre che accanto a te ti supplica. Nella comunione Cristo si unisce a noi e ci dà la vita. Lo ringraziamo anche perché sta operando delle guarigioni, sta fermando un tumore al lobo sinistro del cervello di un uomo, sta bloccando un altro tumore, al pancreas. Lo ringraziamo perché tocca le cervicali di un'altra persona, e lo ringraziamo perché tocca anche tanti organi, tra cui un timpano, Gesù, una persona. E per tante altre grazie, però vorrei che siamo noi, forse noi, a testimoniare le grazie che Dio dà in questo luogo santo. e adesso fratelli e sorelle devo dirvi una cosa, con la grazia di Dio perché tutto è nelle mani del Signore, il prossimo mese io compio 60 anni della mia ordinazione sacerdotale. vorrei che le celebrazioni fossero tutte di ordine spirituale, senza nessuna manifestazione esterna. per l'occasione un nostro fratello, scrittore, vuole presentare un libro che mi riguarda, Cioè, ha preso spunto da questo avvenimento per per dire narrare il suo incontro con me. Non è la celebrazione di un uomo, sarebbe fuori luogo, non avrebbe senso nel nostro ambiente. ma vuole essere un messaggio che Egli vuole dare a noi sul passaggio di Dio. Dio passa attraverso gli uomini e passa investendo alcuni uomini nel suo mandato nella sua luce, nella sua parola. E' Lui che si manifesta agli uomini, che passa in mese agli uomini. e il nostro fratello ha colto questo passaggio, lo ha voluto annotare e ha voluto anche manifestarlo agli altri per glorificare Dio, per dire che Dio è sempre presente, non abbandona mai il suo popolo, è Lui che passa in mezzo agli uomini e si serve di uomini come noi per ricordare che Lui esiste, per ricordare che Lui soltanto è il Signore e la luce viene agli uomini da Lui. Questo è soltanto lo scopo che Egli si prefige a tirare lo sguardo di tutti noi al passaggio di Dio, perché noi siamo più attenti al passaggio di Lui, cogliamo questo suo passaggio, lo sfruttiamo per il nostro vantaggio e glorifichiamo Lui, ma ascoltiamo soprattutto Lui attraverso i Suoi messaggeri, messaggeri che Egli ci invia di tanto in tanto. di Dio.